le altissime motivazioni di Unascoli che ottava in classifica la voglia di ben figurare invece della regina le pressing della regina che porta al recupero del pallone Giraudo, il cross da destra corner è battuto a Bellomo è proprio il colpo di testa di Foloruscio il palo battuto corto, arriva Buchen, la conclusione difende ancora bene, mette a campo Dionisi questo pallone con maestria una delle specialità della casa questo Bidaoui entrato in area da destra la respinta corta e poi Salvi che non riesce nel tap-in punizione già battuta dall'Ascoli quindi si ripresenta con Sanic e riparte da Bidaoui dove aveva lasciato la conclusione e il gol con Lascoli che passa in vantaggio con Caligara ed è una grandissima giocata di Fabrizio Caligara Lascoli che adesso gioca con grande semplicità la conclusione Maestro ancora una gran giocata Bidaoui destro e sono due ed è un grandissimo gol anche questo di Bidaoui dopo quello di Caligara solo gol d'autore oggi per Lascoli Ancora Maestro per la conclusione ribattuta poi Dionisi L'1-2 con Kortinovis Kupic, Kortinovis con il destro che colpisce il palo è finita Lascoli batte 2-0 la Regina con i gol di Caligara al 55esimo e di Bidaoui al 66esimo